Dopo la settimana medievale è tutto pronto per il ritorno della giostra dell'archidado. La manifestazione torna a Cortona domenica preceduta da un programma intenso di spettacoli e rievocazioni a cura del Consiglio dei Terzieri. Venerdì 10 giugno in piazza Signorelli si tiene l'esibizione dei giochi di bandiere con una tradizione medievale a cui partecipano gli sbandieratori della città di Arezzo e del gruppo sbandieratori e musici di Cortona. Sabato 11 giugno alle 21 e 15 si terrà la rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Casali e Antonia Salimbeni con il carro nuziale trainato dai due esemplari di Chianina a seguire la tratta delle verrette. Domenica 12 giugno è il giorno della giostra dell'archidado. Alle 11 in piazza Signorelli si svolge la provaccia a cui fa seguito alle 16 la 27esima edizione dell'archidado manifestazione che vede confrontarsi i quintieri cortonesi. Le iniziative sono patrocinate dal comune di Cortona con regione toscana e provincia di Arezzo e godono del sostegno della banca popolare di Cortona e fanno parte del circuito dell'associazione storica della regione toscana.